Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna ma a causa del traffico intenso code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Rallentamenti invece tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante del Valico. Passiamo sulla FIPILI dove a causa di lavori si segnalano tre chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze, un chilometro di coda invece in direzione Livorno. Chiudiamo con i cantieri di Firenze per il posizionamento di un autogru chiuso il controviale di Viale Matteotti tra via Fra Bartolomeo e il numero civico 22 Rosso. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!